Dopo gli appelli dei mesi scorsi, nel decreto aiuti bis è stato inserito l'adeguamento dei contributi per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali nell'edilizia e procedere così in maniera più spedita con la ricostruzione. L'accordo per l'adeguamento del preziario c'è ed era una richiesta che gli operatori della ricostruzione e gli ordini professionali facevano da tempo. Ora i uffici speciali dell'Aquila e Cratere dovranno procedere con i decreti. Nel decreto aiuti bis è prevista anche una norma che consente di ricevere il contributo anche per la sistemazione delle case fuori dal Cratere, ma per danni gravi. È stata una norma che attendevamo da tempo perché è stato equiparato il sisma 2009 al sisma 2016. Il sisma 2016 è commissariato e il commissario ha nella sua facoltà di emettere decreti e quindi incrementare il contributo per la ricostruzione. Nel 2009 invece lo stato emergenziale prima volta della storia era stato dichiarato ultimato prima della sua scadenza. Doveva scadere il 31 dicembre 2012 e è stato dichiarato ultimato il 31 agosto 2012. Quindi non vi era da parte gli uffici speciali la possibilità di intervenire con norme speciali. Con il caro prezzi, adeguamento dei prezziari di riferimento, con gli stessi soldi facciamo meno lavoro. Invece riaumentando il contributo, adeguando anche il contributo a quelle che sono state le inflazioni e i caro materiali, abbiamo la possibilità di finalmente poter rintervenire sugli immobili in maniera compiuta. Inoltre nel decreto aiuti bis c'è un'agevolazione per i familiari delle vittime del sisma. Le pubbliche amministrazioni dei comuni del Cratere potranno riservate ai congi, agli orfani delle vittime del terremoto del Sapile 2009, una quota pari al 30% dei posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo determinato di personale non dirigente. C'è però il problema della scadenza al 30 settembre per la richiesta di contributo all'interno delle perimetrazioni dei centri storici dei comuni del Cratere. Ci vorrà il tempo tecnico per gli uffici speciali per aumentare questo contributo. Con le scadenze che abbiamo al 30 settembre è impossibile rispettare queste scadenze. Abbiamo chiesto più volte di toglierle perché non ha alcun senso. Era stato portato anche più di un emendamento al Senato, sempre sul decreto aiuti, ma non è stato preso in considerazione. Questo ci doiamo molto e ringraziamo chi l'ha portato questi emendamenti. Però qualcosa in più poteva essere fatto. La scadenza del 30 settembre non è rispettabile perché oggi è il 14 settembre, dovrà essere emanato ancora i decreti degli uffici speciali, ci vorrà il tempo per poter rifare le progettazioni da capo e non è una cosa che si fa in una notte, questo assolutamente no.